L'ultima è sempre la più difficile, anche perché è la prossima, perché comunque le tossine si sono accumulate in molti calciatori, ma soprattutto l'aspetto mentale è quello più difficile da allenare, quindi si sono spese anche moltissime energie mentali, sia con l'Avellino ma anche con l'Intella, perché siamo andati sotto dopo 40 secondi, quindi anche sotto l'aspetto psicologico abbiamo dovuto rimontare ed era la prima volta in questa stagione, quindi come abbiamo detto anche martedì sera in conferenza, tanti aspetti positivi, però naturalmente la terza partita in sette giorni porta comunque delle scorie, fortunatamente abbiamo gente fresca che è pronta a riprendere posto in mezzo al campo, ho visto un po' il turnover di martedì e questo mi permette di far rifiatare qualcuno e chi invece ha riposato martedì di essere pronto per la sfida di domani. Ragiono da chi vive in questo mondo da una vita, per esperienza, ripeto, tre partite in una settimana non sono poche, c'è tanto dispendio energetico, fisico, ci sono viaggi, trasferimenti e quindi anche sotto l'aspetto mentale questo lo si paga, ma come lo possiamo pagare noi lo pagano anche gli altri, quindi sotto questo aspetto siamo sullo stesso livello, credo che noi rispetto alle altre abbiamo un piccolo vantaggio di avere comunque un organico che mi ha permesso di far riposare qualcuno e quindi domani ce l'abbiamo sicuramente più riposato sotto l'aspetto almeno fisico. Sì, sicuramente andiamo ad affrontare una squadra che la potrei definire di prima fascia, una squadra ben costruita, ottimamente allenata da Giuliano che quando l'ha presa in mano l'anno scorso sicuramente è riuscito a trarre cose molto positive e quindi ha avuto la possibilità di poter continuare un lavoro intrapreso nel girone di ritorno della passata stagione. Ha degli elementi di qualità e di grande esperienza, Oliveira su tutti, Della Fiore, Esposito, Schiattarella, Corvia, quindi sono giocatori, Jefferson sono giocatori per la categoria importante, una squadra che gioca bene perché ha qualità, ha un'ottima organizzazione di gioco, ha cambiato un po' il sistema di gioco dal ritiro, nelle amichevoli, in precampionato, Coppitalia e anche a partita in corso cambia qualcosa quindi questo ci fa capire quanta attenzione e rispetto dobbiamo avere per il latino e dobbiamo essere pronti a ogni evenienza perché dobbiamo anche noi essere bravi a cambiare eventualmente l'atteggiamento. Lui è pronto per giocare però io lo vedo in un altro ruolo quindi non da centrocampista lo sto provando in un'altra posizione e quando mi renderò conto di aver bisogno delle sue caratteristiche in una partita dall'inizio a partita in corso lo utilizzerò. Già il fatto che comunque nelle ultime partite è stato convocato e quindi è venuto in panchina è la dimostrazione che è un giocatore a cui io credo e che ci può dare comunque delle soddisfazioni. Un ragazzo di 18 anni che deve ancora crescere sotto tutti i punti di vista, non bisogna dargli grandi responsabilità. Lui deve continuare ad allenarsi come sta facendo e poi il momento per le soddisfazioni arriverà per tutti. È normale che non posso in questo momento pensare di far giocare 25 giocatori con una certa continuità. C'è chi gioca un po' meno, chi sta giocando pochissimo, chi non ha ancora fatto l'esordio, però alla lunga tutti avranno la possibilità di poter dare il loro contributo. Io credo che non sia giusto in questo momento guardare troppo la classifica. È normale che dopo quattro giornate alcuni valori sono venuti fuori. Il Livorno è una squadra costruita comunque per puntare al salto di categoria. Rispetto alla passata stagione dove veniva dalla retrocessione, quindi era a detta di tutti la super favorita insieme a Catania e Bologna, ha fatto fatica e non è entrata neanche nei play-off. Quest'anno invece affari spenti, credo che abbia preso dei giovani interessanti tra i migliori della cateteria, ha mantenuto giocatori di esperienza, magari è partita con più umiltà e quindi penso che è una squadra che possa comunque arrivare fino in fondo. Non si sa come, ma lo può fare. E poi credo che Cesena, Cagliari, Pescara, Bari sono quelle che sono lì. Dopo quattro giornate la classifica è ancora presto perché non sappiamo che tipo di preparazione hanno fatto le squadre. Molte hanno completato gli organici gli ultimi giorni di mercato, quindi magari gli ultimi acquisti anche importanti hanno bisogno di tempo per trovare la condizione ideale, per dare il loro grande contributo ad ogni squadra. Quindi credo che adesso vedere la classifica sia prematuro, però è normale che queste prime gare hanno già dato un'indicazione di massima su quelle che possono essere le squadre che lotteranno per la vittoria finale del campionato. Un incidente di percorso può capitare. Quello che potrà far capire il reale valore del Bari sarà la risposta alla partita successiva. Quindi credo che la partita successiva che faranno potrebbe dare l'idea del carattere di questa squadra, che comunque l'ha dimostrato nelle prime tre gare, due volte in inferiorità numerica ha portato a casa il risultato, rimontando una grande partita con lo Spezia. Quindi è un organico tra i migliori. Quindi credo che un incidente di percorso ci possa stare e quindi io il Bari la metto tra le favorite e la vittoria del campionato. Ma dipende dai momenti, dalle caratteristiche anche della partita che devo fare, anche del tipo di avversario che magari si può trovare in quella zona di campo. È normale che Balzano e Pisacano sono due giocatori di grandissima affidabilità, di grande esperienza e che sono sicuro che il loro rendimento sarà sempre ottimale. Però è anche vero che abbiamo due giocatori col piede naturale che hanno grande spinta, hanno sicuramente sotto l'aspetto della propositività offensiva ci possono dare qualcosa in più e quindi in base anche, ripeto, al tipo di partita che andiamo a preparare faccio le scelte. L'unico in questo momento che non ha avuto spazio è Barrega perché comunque nel momento magari che poteva giocare è stato anche lui convocato in nazionale, poi ha avuto un problema fisico, però si sta riprendendo e quindi è un giocatore che comunque io e anche la società puntiamo molto. Sì, purtroppo qualcuno dovrò lasciarlo a casa e anche domani un paio andranno poi in tribuna, però preferisco avere tutta la rosa al completo che dover rinunciare a qualcuno per problemi fisici. Bene, bene, bene. Domani lo mandiamo anche a giocare con la primavera, quindi farà una partita, poi il minutaggio lo deciderà lui, quando scenderà la spia rossa chiederà il cambio per non compromettere naturalmente l'andamento della preparazione, però ci vuole tempo, ha bisogno adesso solo di fare partite. È normale che sfruttando anche un po' la primavera e poi possiamo far fare velocemente magari un paio di partite in queste settimane. Qualche amichevole la organizzeremo e quindi credo che nel giro di 3-4 settimane penso possa essere proprio pronto per giocare in pianta stabile in squadra. Ma credo che il merito sia soprattutto di Mario Beretta che partendo da forse da zero sta cercando di creare attraverso un grande lavoro le basi per portare innanzitutto i migliori talenti che ci sono in Sardegna e credo che ce ne siano tanti. Max Kanz è un allenatore collaudato, di grande esperienza, molto molto bravo e preparato e quindi questo mix di cose porta inevitabilmente a risultati positivi. Siamo solo all'inizio però credo che se il buongiorno si vede dal mattino questa primavera possa dare soddisfazioni e creare un buon bacino che possa servire in futuro anche alla prima squadra. Sì, è anche il compito di un allenatore di vedere piano piano quali sono le potenzialità di ogni giocatore che ha a disposizione. È normale che più passano i giorni, le giornate, le partite trarrò sempre maggiori considerazioni e indicazioni e naturalmente il ruolo di Mezzala è il suo ruolo naturale. Avevamo fatto un discorso all'inizio, naturalmente ho voluto anche valutare personalmente che tipo di giocatore fosse perché tranne qualche spezzone visto distrattamente in televisione l'anno scorso era un giocatore che non conoscevo. Quindi abbiamo optato inizialmente per un tipo di collocazione, invece poi mi sono reso conto, soprattutto per quello che cerco io da una mezzala, corrispondevano precisamente alle caratteristiche di Joao, nonostante De Iola abbia fatto molto molto bene, però è normale che con Joao acquisisci maggiore esperienza e maggiore qualità e quindi vedo che si trovano bene, si conoscono comunque soprattutto i quattro là davanti, c'è tanta qualità e per vincere le partite ci vuole la qualità.